Il fatto è che sono già molto impegnato qui. Basta. Con piacere. Splendido. I Minutemen avrebbero proprio bisogno di altra gente come te. A proposito, se vuoi darci una mano qui, parla con Sturgis. Sarà contento di avere un aiuto. Sì. 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 Questa era Anything Goes. Questa stazione radio è un'attività no-profit. Sono delle persone che mi permettono di andare in onda. Gente come... Come questa. Diamond City Surplus. Aperto 24 ore su 24. La direzione si riserva il diritto di negare il servizio alla... Questa è un'attività di negare il servizio alla... Questa è un'attività di negare.